Ecco l'attrezzatura sequestrata questa mattina alla motorizzazione di Cremona. Anche oggi in tre hanno provato a ricevere un aiuto via telefono per superare l'esame teorico della patente. Qui c'è la telecamera. Questa è la telecamera che si mettono da qualche parte. Come un bottone. Come un bottone. Poi è collegato, qui c'è una SIM. C'è dentro una SIM card e questa è la batteria. Gli esaminanti prima della prova vengono sottoposti a un controllo con metal detector per individuare eventuali telecamere e microfoni. Ci sarà stato qualcuno qua fuori o da qualche parte che tentava di aiutarli e però sono stati scoperti dal personale della motorizzazione. Altri, visto quello che è successo, hanno deciso di abbandonare l'esame e molti non si sono presentati. Comunque non rischiano niente. Allo stato attuale sembra di no se non quando c'è l'intervento della polizia. Però in questo caso l'esame non è ancora partito, sono stati bloccati prima e quindi se ne vanno tranquilli. Controlli sempre più serrati. Anche a Cremone è arrivato il riconoscimento facciale. All'ingresso una telecamera inquadra il volto del candidato e lo confronta in tempo zero alla foto del documento utilizzato durante l'iscrizione. In questo modo si limitano gli scambi di persona sempre molto frequenti. E la cosa sta funzionando, come ci dice la responsabile della sede cremonese della motorizzazione, Maria Montone. Sì, sicuramente i tempi si sono accorciati di tanto. I ragazzi vengono identificati e se per caso non sono loro, già inizia il primo blocco. Non era facile individuare uno scambio dal documento? A volte no, a volte no. Ci sono persone, diciamo, extracomunitari di colore che a volte si fa molta fatica. Sono sempre state, ci sono in tutta Italia purtroppo. Abbiamo chiesto aiuto alle forze dell'ordine che ci sono stati veramente di grande aiuto. e forse per questo motivo qua sono un po' diminuiti, sì.